Allora oggi siamo a Guardistallo contro il Guardistallo Multistudaio e siamo qui con Daniele Macchioni. Daniele, un pareggio oggi, come è valuta la prestazione tua e dei tuoi compagni? Oggi è una prestazione particolarmente importante perché è una squadra come Tracerolo, che è stata una compagine che è una di quelle che, se non la vittoria finale, poco ci manca. Quindi per noi era importante cercare di riprendere il risultato che avevamo avverti domenica scorsa, partita a tratti buoni da parte nostra quando siamo riusciti a mettere il palla a terra e esprimere le qualità che abbiamo soprattutto nei tre davanti. Comunque nel complesso è importante perché siamo riusciti a non prendere gol per questa partita qua e vabbè sperare per il futuro. Ok, va bene, ti ringrazio. Ciao.